la bull run ormai è finita se guardi un po di contenuti qua in giro su youtube vedrai che sono tutti in panico tutti oddio è finito tutto è finito tutto e sì effettivamente la bull run è finita ma bisogna fare alcune considerazioni in questo video le faremo insieme partiamo immediatamente a bomba sul nostro grafico la bull run è finita sì è finita perché comunque sia come vediamo qua abbiamo fatto direi un bellissimo movimento una bellissima corsa esattamente come abbiamo fatto qua ma se questo potesse essere in qualche modo questa situazione qui cioè possiamo effettivamente dire che sia finita la bull run chi mi segue da un po su qui sul canale sa come la penso mi aspetto che ottobre possa essere potenzialmente un momento per andare a fare esattamente questo tipo di movimento qui il mio target su bitcoin era gli 80k quindi mi aspettavo questo target da colpire non l'abbiamo ancora colpito mi aspetto che ottobre possa essere il momento giusto effettivamente per andare a colpirlo ottobre novembre perché allora se dovessimo stare a guardare i classici grafici le classiche cose che vengono mostrate se noi andiamo a vedere i ritorni mensili statistici su bitcoin ottobre e generalmente andiamo qua un mese come vediamo positivo per bitcoin settembre invece relativamente negativo vediamo una media del meno 4 92 per cento ottobre una media del più 22 9 per cento quindi effettivamente ottobre ma in generale per tutti i mercati è un momento interessante così come anche novembre cioè questi due mesi ottobre novembre sono tendenzialmente due mesi interessanti per il mercato e lo si vede qua dalla quantità di verdi quindi a rigore di logica dovrebbero essere due mesi interessanti in realtà chi mi segue da un po qua sul canale lo sa io non guardo tanto questo tipo di analisi anche se effettivamente comunque ha un senso comprendere analizzare determinati dati però ecco non possiamo basarci solo su questo perché ricordiamoci che questo è ciò che è stato sui mercati non ciò che sarà perché possiamo tranquillamente discostarci totalmente da questa cosa tant'è che come vediamo qui ci sono degli anni in cui non è andata bene così come anche di qua ci sono degli anni in cui non è andata bene quindi non è che è sempre tutta una colonna verde o tutta una colonna rossa e così via no il mercato è volubile cambia e quindi dobbiamo anche noi comprendere che va a cambiare nel tempo allora che cosa mi fa dire che potenzialmente ottobre possa confermarsi così come novembre un momento per un eventuale altra onda bull il fatto che ci sono una concatenazione di fattori che abbiamo già discusso e rivisto più volte qui sul canale che mi fanno propendere per questa tesi la prima è ovviamente l'ingresso di liquidità degli stati uniti e tendenzialmente quando entra liquidità è un buon segno il fatto che ci sia il taglio dei tassi di conseguenza tendenzialmente il primo taglio dei tassi è un momento che viene scontato positivamente dal mercato terzo elemento ovviamente ci sono le presidenziali le elezioni che non è un evento e qua lo devo sottolineare oddio ci sono le presidenziali se vince trump cresce tutto esplode il mondo fantastico tutti ricchi con bitcoin eccetera ragazzi non dobbiamo guardare questo non è una questione del fatto che se vince trump allora bitcoin va bene se perde trump allora bitcoin non va bene con o senza trump finora bitcoin era andato avanti comunque non è tanto questo il discorso il discorso è che sotto elezioni tendenzialmente si tende a nascondere un po la polvere sotto al tappeto anche perché se il presidente in uscita o comunque visto che biden non ci sarà chi farà le sue veci che del suo partito comunque designato da lui si trova una situazione in mano relativamente schifosa in termini economici ovviamente c'è tutto l'interesse del mondo in questa fase a nascondere un po no la polvere sotto al tappeto perché altrimenti è normale che l'opinione pubblica si sposti a votare l'opposizione quindi questo è da tenere assolutamente in considerazione quindi quello che mi aspetto è in questa fase un facciamo finta che vada tutto bene e tiriamo a campare almeno fino alle elezioni in questo contesto in quest'ottica tali dei tassi liquidità tutto quello che serve per spingere l'economia e far vedere che è fiorente questo sicuramente contribuirà sul mercato a una nuova onda bull questa però ripeto è la mia personale opinione basata su quella che è la mia conoscenza e comprensione dei mercati ognuno dovrebbe farsi la propria quindi questo mi aspetto e questo mi aspetto significa che qui probabilmente vedremo magari un ritorno un po per volta a toccare esattamente come abbiamo fatto in quest'area ma questa volta andare a stuzzicare quest'area qui quindi tra i 76 gli 80k potenzialmente potrebbe essere un'onda più impulsiva assolutamente sì potremmo arrivare ai 90k non penso non penso che arriveremo ai 100k però nulla nulla è detto a questo punto raggiunte ottobre novembre quest'area qui arriva il 2025 2025 per molti sarà l'anno fantastico di bitcoin perché l'analisi ciclica dice così e così è personalmente per quanto anch'io segua l'analisi ciclica per posizionarmi sul mercato devo però fare i conti anche con l'economia reale l'economia reale disastrosa l'economia reale fa cagare in questo momento cioè siamo realmente sulla recessione sull'orlo della recessione ma non perché tutti dicono che c'è la recessione ma semplicemente perché c'è il debito pubblico usa che è schifosamente alto e in un contesto di questo tipo evidentemente la situazione è molto tesa allora che cosa potrebbe succedere proviamo ad analizzare i due scenari prima di andare a vedere come si sta comportando il mio portafoglio cripto in questo momento scenario 1 trump perde le elezioni e ovviamente si continua con quello che è il gioco politico che c'è stato finora magari ancora a rompere le scatole a bitcoin ma va bene ci sta comunque ricordiamoci che sono entrati dei player grossi come blackrock e così via quindi si rompe le scatole ma relativamente in ogni caso tutto va come da copione e si entra in recessione punto cioè questo è quello che vedo io rispetto ai dati che analizzo poiché sia una recessione più o meno marcata è un altro paio di maniche visione 2 vince trump e allora qui la maggior parte di persone e purtroppo anche colleghi sparano a zero se vince trump bitcoin to the moon bitcoin a 100k bitcoin qui bitcoin lì e probabilmente ci sarà un pump per la vittoria ai bitcoin ma è solo fomo è solo fomo perché ricordiamoci che se trump salisse al potere obiettivamente si troverebbe in mano una situazione da andare a sistemare una situazione economica del cazzo per risolvere questa situazione economica per forza di cose le cose sono due o continui a fare quello che si è sempre sempre fatto e continui a ingigantire la bolla oppure freni effettivamente l'economia entra in recessione e va a ridimensionare un pochino riassorbire quello che si riesce del debito obiettivamente nessuno vorrebbe fare questa cosa qui c'è nessun politico nessun presidente vorrebbe trovarsi a stringere a far cadere in recessione il tutto però ricordiamoci che trump sta entrando in una situazione che potrebbe essere favorevole per lui favorevole perché uno tramite una recessione riportare un pochino in sesto quella che l'economia in parte perché comunque già lo sappiamo è ultra pompata quindi c'è ben poco da fare però in parte ci si può lavorare sopra due può incolpare la presidenza precedente di conseguenza a lui non frega niente che appena entra in carica i mercati debbano andare bull non gliene può fregarne meno a lui interessa in questo momento screditare chiaramente il lavoro pessimo che è stato fatto di contrappeso gli permette di apparire come migliore risolvere un po quella che è la situazione quindi entra in recessione è necessario tante che durante tutti i comizi le varie cose si parla di riassorbire il debito anche utilizzando acquisto di bitcoin o altre soluzioni che comunque diciamocela non è che vengono attuate subito cioè ci vogliono almeno 5 6 mesi 7 mesi prima che vengano deliberate e poi approvate entrano in vigore cioè entrano in azione c'è del tempo che passa nel frattempo intanto secondo me è una bella recessione non ce la toglie nessuno detto ciò per il 2025 quello che io vedo è magari nella parte finale del 2025 quindi ottobre novembre dicembre 2025 effettivamente ci potrebbe essere quella che è l'onda seria di bull di questo ciclo di bitcoin che può portarci veramente dei risultati interessanti superiore ai 100k potenzialmente però prima mi aspetto un ritracciamento quanto profondo e quanto profondo questo è da capire da comprendere ovviamente nessuno la sfera di cristallo può essere più o meno profondo nel frattempo comunque sia ci troviamo in una buona situazione di ritracciamento a mio avviso se andassimo a misurare questo movimento qui ti mostro fino al minimo toccato siamo meno 32 per cento rispetto all'olta i mai e rispetto al momento attuale siamo meno 24 che ci sta cioè ci sta tutto è un buon riassorbimento secondo me questa è l'area da tenere in considerazione in questo momento c'è tutto quello che va tra i 50 e i 60k questo è potenzialmente l'accumulazione per il prossimo movimento quello di ottobre novembre e io qui che mi sto posizionando come mi sto posizionando mi sto posizionando in diversi modi in particolare sto usando molto i trading bot qua vorrei mostrarti giusto per comprendere perché molti utilizzano i trading bot con l'idea di guadagnare in realtà certo sono utili per guadagnare i trading bot ma automatizzare i processi automatizzare le strategie può essere una soluzione incredibilmente interessante per gestire il portafoglio cioè più che pensare devo fare avviare il super trading bot speculativo che spacca il mercato vince mi fa il 2000 per cento più che pensare questa roba qui bisognerebbe iniziare a individuare e concepire i trading bot come strumenti che automatizzano la nostra azione sul mercato sia che sia a livello trading sia che sia a livello investimento personalmente è proprio su questo che mi concentro cioè io voglio delle soluzioni che siano in grado di automatizzare la mia presenza sul mercato io voglio un occhio h24 sul mercato che stia lì al posto mio ed è questo che cerco nei trading bot cioè cerco un valido aiuto un valido strumento per aiutarmi proprio nella mia attività di investimento e che cosa ho io in mente quando investo uno cercare di perdere il meno possibile cioè io devo riuscire a controllare le perdite e contemporaneamente devo spingere i profitti per farlo devo andare a costruire un portafoglio il più possibile bilanciato andiamo a vedere come sta funzionando questo portafoglio poi farò un video comunque dedicato anzi fammi sapere se vuoi vedere un video dedicato di come ho strutturato bene il portafoglio in modo che sia resistente diciamo a situazioni di questo tipo di calo e che contemporaneamente è performante nelle situazioni bull scrivono qua sotto nei commenti faremo un video dedicato detto ciò questo è il portafoglio didattico che abbiamo creato su pionex per chi non conoscesse pionex è un exchange non ha l'obbligo di kyc quindi molto molto comodo ci permette sostanzialmente di come tutti gli exchange come binance come tutti gli exchange normalissimi di fare trading o comprare spot cripto ma aggiunge anche una funzionalità extra e sono i trading bot infatti pionex è fantastica proprio per i suoi trading bot perché ha un portafoglio di trading bot che è fuori di testa e voglio giusto farti vedere rapidamente per comprendere di che cosa stiamo parlando ecco qua qua abbiamo bot di ogni tipo per ogni categoria per ogni cosa c'è bullish le strategie sideways questo sia per lo spot che anche per i futures quindi c'è veramente un mondo ci sono anche delle opzioni quindi un'automazione ulteriore che magari tra poco vediamo brevemente però ecco ci sono tantissime tantissime soluzioni nonostante abbiamo visto bitcoin aver fatto un calo comunque nell'ultimo mese cioè prendiamo solo settembre così abbiamo un'idea solo su settembre su settembre bitcoin ci ha fatto un meno 11 per cento mentre se andiamo da agosto quindi facciamo gli ultimi 30 giorni così abbiamo un'idea di cosa è successo da agosto ad adesso siamo ad un meno 20 per cento più o meno quindi bitcoin ha fatto un bel movimento in giù le altcoin inutile che vada a vederle sono molto 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 più giù ma qualsiasi a parte ton coin che poi c'è stata tutta la dinamica va bene però adesso si sono riprese perché comunque il prezzo di bitcoin sta tornando un po' su però tendenzialmente tutte le altcoin non se la sono passata bene tra l'altro stasera scade la promo di pionex c'è una promo molto interessante infatti perché ancora non si è iscritto a pionex basta registrarsi gratis non serve fare alcun deposito completi la verifica dell'identità e che vuoi sì è obbligatorio per poter dare il bonus perché viene erogato solo a 20 persone e viene dato una volta completata la verifica d'identità viene dato un buono di 50 dollari utilizzabili per avviare un bot di trading io ho creato anche delle soluzioni veloci in copy se vuoi utilizzarle te le lascio qua sotto puoi utilizzare quel bonus per copiarle copiandole se perdi perdi il bonus semplicemente quindi vengono decurtati i soldi dal bonus se vinci però i profitti li puoi prelevare sono tuoi quindi una promo sicuramente interessante utile che ha riservato pionex alla nostra community perché sto usando molto pionex ho detto per una questione di automazione e in queste fasi secondo me automatizzare la cosa più importante il mio wallet nonostante questi cali come vediamo qua nel 30 giorni è a un meno 2,32 per cento quindi se la sta cavando relativamente bene mentre se dobbiamo vedere gli ultimi 90 giorni siamo a un meno 5 per cento non è tantissimo ci sta gli ultimi 180 invece siamo a un meno 2 e 19 quindi il portafoglio si sta difendendo molto bene come l'ho strutturato? L'ho strutturato prevalentemente in liquidità in questa fase liquidità che sta apportando interessi contemporaneamente tutta una serie di bot che vanno ad automatizzare la mia attività quindi come vedi ho sia dei grid inversi in questo caso questo è trading è una parte speculativa che va a giovare nel momento in cui bitcoin scende di valore mi va ad accumulare dei bitcoin perché in questa fase quello che interessa a me è continuare ad accumulare ho poi stessa roba sul cambio eth btc ho un twop che ho messo in pausa adesso lo recupero tra l'altro l'avevo messo in pausa perché ho fatto un acquisto prima come puoi vedere qua vediamo se riesco a vedere i dettagli eccolo qua ho fatto un acquisto preventivo ho aggiunto io un investimento manuale perché bitcoin si trovava a 53k quindi anziché comprarlo a limite ho fatto che aggiungerlo direttamente qua dentro il piano d'accumulo il piano d'accumulo che automaticamente mi avviene come vedi qua ogni domenica alle 12 in questo caso sono andato io a spingerlo cioè l'ho fermato un attimo ho caricato io liquidità quindi anziché farlo arrivare poi di domenica l'ho fatto io prima in questo modo ho aggiunto io liquidità ogni volta che bitcoin mi torna come attualmente infatti sono andato ad aumentare l'entrata ogni volta che mi torna in quest'area qua quindi tra i 55 e i 50k io vado ad accumulare qualcosina in questo momento perché lo vedo appunto come un'area di accumulazione per una fase successiva questo sul mio portafoglio speculativo quando mi scende sotto i 50k vado ad accumulare anche una quota in altcoin che tendenzialmente sono più scontate e questo mi permette di posizionarmi poi quando c'è un riassorbimento un recupero per andare a fare dei buoni profitti poi in ogni caso le mie altcoin sono all'interno come puoi vedere qui di un bot ho allora dov'è qua un rebalance come possiamo vedere in questo rebalance qui ho dentro bitcoin, pax gold e così via e qua ho le altcoin le altcoin attualmente sono un meno 9% 9,49% complessivamente tra quelle high cap, middle cap, small cap e così via quindi qua dentro è tendenzialmente un meno 10% sulle altcoin ci sta in questa fase visto che la media è più alta di rosso tanti si sono bruciati il portafoglio quindi io devo dire che mi sto difendendo il nostro portafoglio si sta difendendo questo perché stiamo automatizzando i processi è importantissimo costruire dei portafogli equilibrati cercare di automatizzare il più possibile i processi in modo che vengano eseguiti senza che noi dobbiamo star lì a guardare sul mercato e poi posizionarsi con estrema pazienza è la pazienza la chiave di ogni cosa avendo pazienza sul mercato si tende nel lungo termine ad avere ragione e a fare profitto però tutto sta nel posizionarsi con intelligenza strategia, conoscenza e usare sistemi che ci permettono di automatizzare le cose ma non con l'idea di devo avviare il bot per guadagnare e fare il botto ma gestire attivamente il mio portafoglio quindi io uso i bot come miei sostituti per fare il lavoro sporco io penso, loro eseguono questo deve essere ed è questo il modo che approccio la strategia che approccio quando mi muovo su Pionex o qualsiasi altra piattaforma Pionex è un exchange estremamente interessante offre delle soluzioni veramente alla portata di chiunque e che permettono di ottenere risultati se ovviamente accompagnate con logica da una strategia però è veramente fenomenale ed è questo che mi ha permesso effettivamente in questa fase di proteggere il mio portafoglio di ridurre questo drawdown cioè questo drawdown qui dovrebbe essere molto più alto semplicemente con l'holding questo drawdown qui sarebbe stato più alto invece avendo dei portafogli che si ribilanciano una liquidità che mi genere interessi e tutta una serie di soluzioni che operano lavorano per me per difendere il mio portafoglio questo è assolutamente il top da ricercare quindi se ancora non ti sei registrato a Pionex qua sotto ti lascio il link fallo hai anche il bonus se già sei registrato a Pionex inizia a utilizzarlo con bot tradizionali cioè vai sul semplice vai sui pieni d'accumulo vai sui rebalance se vuoi utilizzare i futures utilizza i futures ma fallo comunque con logica e comprendendo come funzionano ma anche solo sullo spot c'è veramente un mondo si può fare qualsiasi cosa basta solo mettersi lì studiare applicare con pazienza il mercato è questo la situazione attuale è questa mi aspetto come ho detto che Bitcoin possa tornare su la precedente bull è finita sì ora però secondo me si continua fammi sapere cosa ne pensi nei commenti lascia like e iscriviti al canale se ti fa piacere se vuoi ottenere altre informazioni di questo tipo tutorial e tante 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 nozioni strategie e news dal mondo della finanza un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 Grazie a tutti